Per comprensibili ragioni di opportunità non disgiunte dall'alto senso di rispetto che ho sempre avuto nei confronti delle istituzioni, del partito e dei parlamentari, tutti anticipo la mia determinazione ad autosospendermi dal Partito Democratico e dal gruppo parlamentare. Sono le parole scritte da Franco Antonio Genovese a poche ore dalla richiesta di arresto formulata nei suoi confronti dal GIP, richiesta che è stata inoltrata alla Camera dei Deputati che ora dovrà valutarla e votarla. Mi preme chiarire, scrive ancora il parlamentare, che al momento ha avuto contezza solo dei capi di imputazione e non delle ragioni a sostegno delle accuse. Sin da ora, tuttavia, anche alla luce di quanto emerso in questi ultimi mesi, sono certo di poter fornire ogni chiarimento. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha adesso 30 giorni di tempo per esprimersi, ma intanto il PD mostra già una sua posizione e la chiarisce il responsabile per il welfare del partito, Davide Faraone. Bisogna lasciar fare alla magistratura, dice l'Aggiunta deve guardare le carte e su quelle valutare. Se dai documenti verrà fuori che la richiesta è legittima e concreta, aggiunge Faraone, si voterà a favore senza alcuna titubanza, altrimenti si voterà contro. Secondo la Procura, Genovese avrebbe avuto il controllo di diversi enti di formazione in tutta la Sicilia, attraverso i quali avrebbe portato avanti truffe e peculato nei confronti della Regione, intascando sotto forma di consulenze oltre 600 mila euro da parte di società del proprio gruppo e avendoli poi messi in circolo mediante pagamenti per operazioni inesistenti, in modo da non rendere possibile la ricostruzione delle operazioni. Per questo il parlamentare è accusato anche di riciclaggio. Nell'inchiesta sono coinvolte altre persone, fra cui familiari del deputato del PD, mentre ai domiciliari sono finiti l'ex sindaco di San Piero Patti, Salvatore Lamacchia, Roberto Giunta e Domenico Fazio, collaboratori della segreteria tecnica del deputato e il commercialista Stefano Galletti.